A seguito dell'incontro con l'assessore alla tutela animali ed ambiente Alberica Borbolani, che si è schierato dalla nostra parte, è stato verificato che nel procedimento in questione una delle due casette era stata inserita in una comunicazione di inizio lavori del 2020 e quindi si ritiene regolarmente autorizzata. I primi 18 gatti della ex colonia di Ponte alla Piera sono pertanto salvi. Ad annunciare buone notizie per i mici è la stessa fondatrice dell'associazione La Gattara Eleonora Iacono, Recentemente, in seguito ad una segnalazione e all'intervento dei carabinieri forestali, erano state infatti riscontrate una serie di irregolarità su alcune opere edilizie realizzate per accogliere i gatti della colonia che si trova nel comune di Anghiari, da cui l'ordinanza di demolizione disposta dall'ufficio comunale lo scorso 4 febbraio. Così per sabato 18 febbraio alle ore 10 in Piazza del Popolo ad Anghiari è stata organizzata una manifestazione per chiedere di sospendere l'ordinanza di demolizione di un altro recinto del rifugio che ospita altri 23 gatti. Con noi in questa causa si sono schierati animalisti, volontari, associazioni e persone da tutta Italia, tante le telefonate di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento per i nostri ragazzi, conclude la presidente dell'associazione. Grazie a tutti.